Alfa ha presentato la 33 stradale in versione termica ed elettrica, Hyundai produce la nuova Kona EV, ma si è lasciata scappare qualcosina, Xiaomi inizia ufficialmente a costruire auto, in ritardo forse, e la cinese NIO lancia un nuovo marchio di elettriche economiche da portare in Europa, ma saranno mai economiche quanto la Fiat Panda? 24.000 euro, 350 km di autonomia e 100 CV. Cosa si può volere di più? Beh, forse una Model 3 Highland? Eletronauti, quindi buongiorno, tante novità elettriche anche questa settimana, e così a occhio sembra che aumentino sempre di più, e la cosa non può che essere positiva. Prima di cominciare vorrei ricordarvi però che il 9 settembre si terrà la manifestazione Ecodolomaez a Bolzano, io ci sarò e mi farebbe piacere vedervi partecipare in tantissimi, trovate il link in descrizione. Cominciamo oggi parlando di Hyundai, che ha finalmente avviato la produzione della nuova Kona, che come la sorella NIO passa da Kona Electric a Kona EV. L'obiettivo del primo anno è la produzione di 20.000 esemplari per poi salire e mantenere i 50.000 ogni anno a venire. Mi pare un numero molto molto basso, e speriamo che invece venda molto molto di più. Sotto il punto di vista tecnico, sarà disponibile in due versioni, con pacco batteria da 48 o 65 kilowattora e motori da 115 o 160 kilowatt. I pacchi batteria sono prodotti da LG e prometteranno autonomie di 377 o 514 chilometri, ovviamente espressi in ciclo VLTP. Vedo ardentemente che la versione long range rientrerà negli incentivi statali e non vedo l'ora di provarla. Alfa, in un evento molto esclusivo, ha presentato la nuova 33 stradale, una vera sportiva italiana con un gusto retro davvero stupendo. Si ispira al modello storico degli anni 60 e incorpora elementi del nuovo linguaggio stilistico del marchio, con le porte che si aprono verso l'altro, chiamate Elytra. Questa vettura presenta uno stile distintivo, che affascina gli appassionati del marchio di tutto il mondo. Alfa ne produrrà solamente 33, ma sono già state tutte vendute. La cosa che mi ha lasciato molto perplesso è che sarà disponibile con motorizzazione sia termica che elettrica. Cioè, qualcuno veramente ha speso oltre un milione di euro per comprarsi la 33 in versione elettrica? O magari ha senso perché in ottica di crescita del valore futuro, su 33 esemplari, magari solo un numero compreso tra 0 e 2, saranno effettivamente prodotte elettriche? Non lo so, gente. Meditate. Meditate, gente. Meditate. Vabbè, comunque 33 stradale in variante elettrica sarà equipaggiata a trazione integrale, quindi con due o più motori, in grado di erogare 750 CV. Il pacco batteria, invece, è al momento sconosciuto, ma si parla di un'autonomia di 400 km in ciclo VLTP. Già che parliamo di sportività, stando su Kona EV, è stata avvistata tra le strade coreane una nuova variante, che secondo molti può essere la versione più sportiva, chiamata appunto Kona N-Line. Sotto il punto di vista tecnico avrà lo stesso pacco batteria dalla variante full optional, qualche cavallo in più ed accorgimenti estetici come in foto, cerchi più sportivi, minigonne ad hoc e, perché no, un sound simulato, un po' come Ioniq 5N. Questa, invece, non è una Hyundai, ma una Mercedes. Probabilmente resta il linguo ufficiale della nuova EQC, che effettivamente ad oggi sta un pochino invecchiando. Sicuramente tra le novità ci saranno i nuovi gruppi ottici, nuovi interni e architettura che passa da 400 a 800 volt. Si vocifera che sarà basata addirittura su una nuova piattaforma. La scorsa settimana vi ho parlato invece dell'ID-Buds GTX. Ecco qui invece un render, probabilmente fedele, che ci mostra come sarà la nuova Volkswagen ID.3 in variante GTX. Avrà 300 cavalli erogati da due motori, trazione integrale, pacco batteria da 77 kWh e ben 500 km di autonomia in ciclo VLTP e ricarica in DC fino a 125 kW. Il prezzo in molti ipotizzano possa girarsi sui 55.000 euro, ma è comunque solo una supposizione. Speriamo sia più basso. Ed ecco invece un concept di un nuovo camion elettrico da Motive Power System. Il nome è Argo ed è caratterizzato da una cabina futuristica ed un motore di nuova generazione. Batteria da 158 o 237 kWh fino a 321 km di autonomia e velocità massima di 110 km orari. Prezzo? circa 225.000 dollari e devo dire non essere neanche troppo alto. Speriamo che arrivi a fare un po' di concorrenza al Tesla, semmai al nuovo Volvo e anche al nuovo Scania. E nel mentre l'azienda famosissima per dispositivi elettronici portatili, Xiaomi, ha ricevuto dall'ente cinese apposito il permesso di produrre automobili, beh, siamo addirittura ad arrivo. Xiaomi Car, ve l'ho fatta vedere più di una volta nei vari episodi delle news elettriche, quindi non vi sto a riassumere tutto, ma vi mostro solamente questi nuovi render decisamente interessanti. Torniamo in Europa, precisamente nel Regno Unito, dove è stata presentata questa versione di Fiat 500e. Si chiama Gelateria Edition. In questo modello i sedili posteriori sono stati rimossi e sostituiti con dei congelatori elettrici per servire fino, pensate, a 300 gelati al giorno dal tetto apribile. Una versione molto carina, chissà se la vedremo anche in Italia. E non so se l'avete notato, ma qualche giorno fa è uscito il mio video anteprima di Volvo X30, ed è stato veramente delirio. Non mi aspettavo che voi impazziste letteralmente per questo modello. In 24 ore il video era già praticamente andato virale, almeno per quanto mi riguarda. Se ve lo siete perso andate a dargli un'occhiata, perché pare che l'auto sia decisamente interessante. E prima di parlarvi della nuova Volvo, una monovolume, vi parlo del mio parcheggio preferito, MyParking. Perché sia che abbiate un'auto elettrica o che abbiate un'auto a pistoni, MyParking è la soluzione migliore per prenotare un parcheggio. Io quando devo spostarmi dalla mia città lo uso sempre. Nello specifico lo uso per prenotare un parcheggio nelle vicinanze degli aeroporti, ma i punti MyParking sono veramente sparsi per tutta Italia. La cosa interessante è che è possibile filtrare per vari servizi offerti, ad esempio la ricarica delle auto elettriche. È veramente comodo ed oltretutto economico. E inoltre se utilizzerete anche il codice sconto MATTE8 avrete un 10% in meno. Quindi mi raccomando ricordatevelo quando vi serve un parcheggio MyParking.it. Torniamo quindi al 12 novembre 2023, quando Volvo dovrebbe presentare la sua nuova monovolume 100% elettrica. Il suo nome sarà EM90 e dovrebbe unire il lusso ed il minimalismo. Sarà basata sulla piattaforma C di Gili. Peserà 3 tonnellate e nella versione più spinta coprirà lo 0-100 grazie a dei motori in grado di erogare 400 kW e 686 Nm di coppia in circa 5 secondi. L'autonomia invece dovrebbe raggiungere gli 822 km e in alcuni casi anche toccare in 1000 km. Sappiamo ancora molto della tecnologia delle batterie, ma probabilmente sarà NMC e supererà i 150 kWh. Ma vedremo. Mercedes ha ufficializzato il nuovo restyling di Mercedes EQA che verrà commercializzato durante il 2024. Esteticamente questo modello presenta scelte di design in linea con le ultime elettriche del marchio e probabilmente all'interno diventerà disponibile anche con il magico hyperscreen. Guardiamo la nuova versione di Hammer che GMC ha presentato proprio in questi giorni, la Earth Cruiser, una mini casa che si autoricarica e con batteria ausiliare da 6 kWh. Tetto estennibile, ovviamente con pannelli solari, letto, cucina e tutto ciò che serve per vivere. Il tutto è stato ideato con l'obiettivo di rendere possibile lo stare off-grid in qualsiasi luogo per almeno 7 giorni. Questo è sicuramente un'auto che mi piacerebbe avere in garage in caso di catastrofe perché la benzina prima o poi finisce, l'energia del sole molto probabilmente no. E per questa e tante altre ovvietà ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, qui trovate anche il QR code se mi state seguendo dalla tv, altrimenti il pulsantino per iscriversi è qui sotto al video. Se vi iscriverete il vostro Matteo Valenza preferito non mancherà di darvi consigli sulla fine del mondo ogni settimana. Ricordati che devi morire! Ecco altre foto avvistamento di quella che sarà la nuova Porsche Macan 100% elettrica, si aspetta di vederla anche alla IAA di Monaco. Questi avvistamenti sono praticamente di auto prive di coperture, se non ha i fari e qualche piccolo dettaglio, quindi dovremmo essere appunto in direttura d'arrivo. I belli i cerchi mi piacciono, simili a quelli già visti su Taycan. È molto strana però la scelta delle maniglie tradizionali. E dopo il camuffamento a imitazione dell'F150 Tesla ha deciso di wrappare Cybertruck come una Toyota Tundra. Ma secondo voi le maniglie sono vere o finte? E ragazzi se mi seguite su Instagram saprete che ho diramato un messaggio qualche giorno fa sui Supercharger gratis. No, nessun errore, nessun bug, semplicemente il circuito Supercharger compiva dieci anni e quindi Tesla Motors ha voluto fare un regalo a tutti. Per un giorno i Supercharger sono stati completamente gratis. E se siete su Instagram e non mi avete ancora messo il follow, beh questa potrebbe essere una buona cosa, no? Fatelo così. Vi trovate sempre delle notiziole velocissime. E sempre sui Supercharger di Tesla ecco un video demo della quarta generazione. Il Supercharger V4 che vedete qui è stato utilizzato per ricaricare un'auto non Tesla attraverso l'utilizzo di una carta di credito. Sul piccolo schermo verrà mostrato il costo, l'energia emessa nel veicolo, la velocità di ricarica attuale ed il tempo di ricarica. Molto bene Tesla, bravissima! Vi ricordate del famoso drive-in di Los Angeles? Bene, il dipartimento per l'edilizia qualche giorno fa ha dato l'approvazione completa allo sviluppo e dalla creazione di un ristorante Tesla con drive-in. Ovviamente le colonnine Supercharger a corredo. Ed ecco come sarà. Bellissimo. Prima di andare al momento più interessante di questo video, ossia l'en... Ragazzi, vi comunico che è Model 3 Highland, è uscita, effettivamente è stata presentata ufficialmente ad Oslo. Una cosa un po' strana, Tesla questa volta non ha fatto una cosa grande in pompa magna come fa sempre per le sue auto. E forse, forse anche perché il modello Performance, ossia il modello pochino più bello e più curato, non è uscito. Dovete sapere che, come avevo predetto, il frontale molto simile al modello di Tesla Roadster 2.0. Il retro invece ha questi nuovi fari che scimmiottano forse un pochino Polestar e Volvo, ma molto molto belli. La scritta Tesla ora è tutta per intero. Abbiamo perso il logo, sempre il posteriore. Non abbiamo la quinta porta posteriore. Abbiamo una rivisitazione completa praticamente negli interni, sedili raffrescabili, schermo centrale posteriore dove si possono vedere anche video in movimento per le persone ovviamente sedute dietro e tante altre piccole novità come ad esempio un nuovo CX che ora grazie appunto al muso fatto un po' diversamente scende a 0,219. Aumentano quindi i chilometri percorribili. Ora è disponibile anche sul sito, si può andare ad acquistare. Tutte le persone che hanno già effettuato l'ordine, non preoccupatevi, vi chiamerà un incaricato per dirvi ma senti, vuoi quella nuova o vuoi ancora quella vecchia? E così insomma non vi preoccupate, non subissate di telefonate tutti i Tesla Center d'Italia perché comunque vi chiameranno loro. Comunque queste e tante altre novità le trovate nel video dedicato che ho rilasciato venerdì. Mi raccomando date darci un'occhiata perché ci ho messo veramente tanta tanta passione e tanti tanti tecnicismi che forse qualcun altro si è dimenticato qua e là. Comunque l'use raffica. BYD ha deciso ufficialmente di voler portare in Europa il marchio Denza, un brand ovviamente cinese che si occupa di veicoli elettrici di lusso come questo van 7 posti con 87 kWh di batteria e 500 km di autonomia. Deep Drive ha annunciato che all'IAA Mobility presenterà un nuovo motore elettrico a doppio rotore in due varianti che aumenterà estremamente la coppia erogabile e dallo stesso tempo in grado di rendere tutto più efficiente raggiungendo il 96% di trasferimento di energia quindi dovrebbe aumentare del 20% l'autonomia dell'auto su cui viene montato. E secondo alcune voci indirette sembrerebbe che Stellantis stia valutando una collaborazione con Leap Motor, un marchio cinese che si occupa prevalentemente ma non solo di cittadine elettriche. NIO ha lanciato un nuovo marchio e il suo nome è Alps. Qualche auto è già stata avvistata in giro ma sembrerebbe che sempre NIO voglia utilizzare questo brand unicamente per portare le sue elettriche in tutta Europa. Saranno di diversi segmenti e fasce di prezzo ma inizialmente tutte basate sulla piattaforma NT 3.0. Il primo modello sarà inserito in una fascia di prezzo tra i 55 e i 100 mila euro mentre il secondo tra i 30 e i 50 e probabilmente il primo evento ufficiale si terrà verso metà 2024. Ed ecco l'ennesimo ma molto interessante render di Fiat Panda 100 cavalli 350 chilometri di autonomia è prezzo che uscilla tra i 25 e i 27 mila euro con batteria niente male da 50 kilowattora. Potrebbe essere la volta buona. Che ne dite? E vari episodi fa vi ho fatto vedere diversi brevetti di Ford per la ricarica in serie tra diverse auto sia in AC che in DC ma da poco la casa dell'Ovale Blu ha depositato quest'altro brevetto dove il veicolo sarebbe in grado di ricevere energia da un rimorchio che sta a sua volta trainando. Che ne dite? Studiamo con questo altro render di 600 Abarth 240 cavalli ovviamente elettrica 54 kilowattora di batteria 400 chilometri di autonomia. Interessante speriamo non sia così controversa come 500 Abarth elettrica non so se Abarth potrebbe supportare ulteriormente. E ragazzi siamo arrivati alla fine vorrei ringraziare moltissimo tutti voi che siete arrivati fino a qui e anche Carlo, Andrea, Giacinto, Marco, Biaggio, Stefano, Giacomo, Pierfrancesco e Manuele che hanno scelto di acquistare una Tesla utilizzando il mio codice referral. Grazie ragazzi siete super gentili e la cosa mi riempie veramente il cuore. Se anche voi volete approfittare dello sconto di 500 o 1000 euro sull'acquisto di una nuova Tesla utilizzate il mio codice amico lo trovate in descrizione a questo link https2.bit.ly slash sconto underscore Tesla oppure se andate in showroom comunicate il codice matteo 27396. A presto elettronauti buona domenica Comunque 33 stradale in variante elettrica sarà equipaggiata a trazione integrale pronto? Sei da solo? No non ancora. Cosa stai facendo? Oh sto lavorando. Bella! Ed ecco invece un copsept, un copsept, un copsept. Certo, il suo nome sarà EM90 e dovrebbe unire il lusso ed il minimalismo. Quante volte ho detto minimi, minimi? Allora voglio chiamarlo minimi, minimi. Citazione bellissima ragazzi se non lo sapete, vabbè, e andate a vedervi il video della Volvo EX30 e soprattutto quello di Tesla Model 3 Highland. Grazie, ciao!